La premiazione degli studenti che hanno partecipato alla diciottesima edizione del concorso letterario Gianan Guissola è stata l'occasione per incontrare la scrittrice Marie-Aude Morel, tra le più importanti firme della letteratura francese per ragazzi, che nei suoi testi affronta con ironia temi delicati come la crescita affettiva, l'identità di genere, i ligami familiari e la giustizia. Temi che, secondo la scrittrice, possono essere letti e affrontati anche attraverso i social. In tempi velocissimi di social network c'è ancora spazio per la letteratura per ragazzi? Certamente perché si legge anche sui social media e il tempo è la cosa più preziosa che noi abbiamo e il tempo ci vuole per leggere. La lettura ci dà anche un altro dato fondamentale che è la possibilità di dare consenso se si vuole leggere oppure no e quindi è qualcosa sul quale noi dobbiamo tutti lavorare anche come adulti. Quindi qual è il suo messaggio per questi ragazzi piacentini? Allora sì sì, tutto ciò, visto che fra poco avrete l'età e tutte le volte che lo potete fare, votate. Il primo premio per la categoria poesia è andato a Charlotte Montermini del liceo Colombini, mentre quello della categoria prosa ad Agatha Zavattarelli, sempre del Colombini. Nella sezione video i primi classificati sono gli allievi della terza F linguistico del liceo Gioia.